Ciao ragazzi, come va? Oggi vorrei parlarvi di un argomento che comunque ha diverse opinioni. Questo argomento è appunto le persone che odiano chi guadagna su YouTube, le persone che odiano certe categorie come i full timer, ma più in generale le persone che odiano chi tramite i suoi video riesce a in qualche modo monetizzare e ricavare un qualsivoglia piccola, media o grande quantità di denaro. Ho provato a fare delle ricerche in rete e non ho trovato molto, allora vi darò quella che è la mia opinione personale. Voi sapete che sono 14 mesi che vivo in camper e sto facendo dei video, sto cercando di imparare a fare il miglior video editing possibile. Tante volte mi è capitato di leggere cose piacevoli e spiacevoli, poi l'ho buttata sul ridere e ci ho fatto quei video che avete visto in molti di voi. Altro cavillo, altro cugino di primo grado di questa cosa è il discorso delle donazioni. C'è gente che, ed è una cosa solo italiana, c'è gente che probabilmente odia le persone che ricevono del denaro da parte dei follower, io li chiamo amici, degli iscritti. Io non riesco proprio a capire, se qualcuno è in grado di illuminarmi, io non riesco proprio a capire il motivo. Tutto italiano, visto che sia in Europa che negli Stati Uniti il discorso delle donazioni è una cosa normale, sicuramente avranno anche loro i loro commenti non belli, però mi lascia un po' così, mi lascia un pochettino pensieroso, stupito, può darsi, mi lascia un pochino perplesso, ecco, questa cosa, questa cosa mi lascia un po' perplesso, lo devo ammettere. D'altro canto, siamo italiani, viviamo in Italia, di conseguenza non abbiamo, sto facendo una pallina per la gattina che vuole giocare, di conseguenza siamo italiani, viviamo in Italia e ci scontriamo con quella che è la nostra realtà. E qui mi viene un dubbio, dico, ma può essere per orgoglio, orgoglio o invidia? Non è che stiamo parlando di 10.000 euro al mese, a meno che non ti chiami Mr. X o altri nomi, e comunque gente che si sa guadagna. Quello che voleva essere il mio discorso è appunto questo, il perché, io faccio una domanda a voi, perché secondo la vostra opinione, a me interessano i vostri commenti adesso ragazzi, perché secondo la vostra opinione queste cose dei guadagni, queste cose delle donazioni, vengono così tanto prese di mira dagli utenti di YouTube. Ecco, questa è la mia domanda. Se volete lasciare un commento, è veramente gradito. Ciao ragazzi, alla prossima.